TIG TAC Oggi ci siamo divertiti un mondo ad aiutare Paperino a ritrovare il suo leone Che strumentopolo abbiamo usato per vedere sott'acqua? Il boccaglio e la maschera E di che cosa ci siamo serviti per andare a prendere Figaro sull'albero più alto? Della scala E con che cosa abbiamo aggiustato la tavola da surf di Pippo? Con testo ma che siamo? E che cosa abbiamo usato per sentire Serasparky? Un microfono Che giornata fantastica E TIG TAC E TIG TAC Il problema ormai non esiste più Il sole splende e il cielo è blu E TIG TAC 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 E TIG TAT MIST E TIG TAC E TIG TAC Grazie a tutti.